Salve a tutti ragazzi qui è PPG Games e siamo qui su Rainbow ragazzi prima stiamo cercando di fare un video su Rainbow solamente che è andato a brutta fine perché questo video è stato diciamo perso perché non so con quale non so perché però è stato perso e quindi ragazzi adesso siamo qui da soli per che mi fa rinforzare un muro già oh mio dio mi fa rinforzare un muro già rinforzato proviamoci no vera che ca... no no me l'ha fatto sprecare ma pensavo che era che diventava doppio però non è stato così vabbè oh mio dio ma perché si uccidono questi in tanti proiettili mi stavano rimando in faccia a me ok secondo me qua adesso moriamo subito oh mio dio quanti ce ne stanno nooo nooo vabbè doppia ne ho fatte due solo qua ragazzi l'arma di di Capgan troppo potente cioè cioè non potete proprio capire cioè secondo me qua adesso muoiono tutti vediamo no ma perché si uccidono madonna stanno uccidendo madonna questo crazy gamers è veramente che crazy questo dai madonna questo crazy gamers è veramente che crazy questo secondo me qua andrà a finire molto 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 male molto male ok abbiamo vinto abbiamo vinto come poi come poi come è possibile ah wallbang benissimo ma secondo me lo badano per cheat questo dicono come cazzo ha fatto vabbè mettiamoci naturalmente ascia ascia oh mio dio blackbeard elite qua facciamo il triple elite così pamma bella questa adesso faccio un bello screen anche se non si fa però triple elite è così bella questa ok andiamo 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 eccoli a tutti quanti ciao 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 no 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 non me lo prendi il drone mi dispiace tantissimo troppo gentile e non me lo prendi mi dispiace mi dispiace tantissimo mettiamolo almeno qua oh che vai tutti e tre elite buono guarda troppo bello guardate che bella skill il mio blackbeard elite che cazzo di skill ha troppo fiera peccato secondo me potevano tipo cambiare anche lo scudo perché lo vedo uguale lo scudo a meno che i contorni non saranno si 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 i contorni sono dorati vabbè hanno cambiato l'hanno cambiato in tutto e per tutto è bello blackbeard elite ragazzi molto molto bello ma non mi hanno barricato niente questi nooo no no venite bene di mare no 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 sono morto guarda però gli ho sparato un sacco di coro questo che è troppo sciolto guardate che bella skill ah no si che l'hanno cambiato c'è quel no è morto vabbè hanno messo tipo una scritta sul sullo scudo mobile cioè sullo scudo quello avete capito no vai vai spara bravissima grande ho preso giusto in testa cioè proprio ha detto sparami in testa quello vabbè andiamo a vencci sono secondo con due kill ok adesso ci mettiamo di nuovo capukan capukan perché è troppo potente troppo potente ragazzi anzi no in camera da letto ci mettiamo yeager che infine la in camera da letto è meglio usare il mitra che un pompa ok vai go 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 ah ma questa non è ah non è camera da letto minchio ah ok vabbè non fa niente barichiamo lo stesso non facciamo la fine di quelli ok barichate anche là mettiamo il filo spinato spostati bene 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 ok ok anche lo scendo secondi veloce veloce barbica no non mi incominciate a sparare ok entra entra chiudi dov'è questo trono di merda eccolo qua dai entro trono di merda minchia li sento già questi entrano questi entrano di rush e sono quasi sicuro dai noi guardiamo state le gambe dove stanno entrando voglio sapere ehi 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 non numero di brato ehi appare hai acho che ho righteous Anybody qui E dai, entro. Oh. No, è morto. Morto da vero. No, è che l'avevo visto anche. No. Ecco, io faccio sempre lo stesso errore, faccio. Sempre lo stesso errore. Cioè, il bello è che li vedo, però, sono appunto molto tardi, perciò. Vediamo che cosa succede. Ma dove stanno? All'altra parte. Ma Valkyrie è troppo shot sempre. No, non l'ha preso, no, non ci credo. Attento, Valkyrie, se non mi viene da là. Se non mi viene da dove stavo entrando. No. Olè, hanno ucciso l'ostaggio. Che coglioni. Oh mio Dio. Guardate, madonna. Hanno ucciso, no, non ci credo. Hanno ucciso l'ostaggio, così, proprio. Madonna mia. Vabbè. Magari mi metto, questa volta, toucher. Così. Anzi no, dato che non hanno messo termite, ci mettiamo. Ci mettiamo sledge, sledge. Stavolta abbiamo solo Twitch Elite. Ragazzi, ditemi se... Io porto tipo una partita a video. Vedetemi voi se devo portare due partite. Massimo due, ragazzi. Perché poi il video diventa troppo lungo. Però magari qualche volta facciamo... Farò una live. Però non credo. Forse sicuramente un video. Molto lungo. Se tipo... Riesco a salire di grado. Molto alto. Cioè, per esempio, tipo diamante. Però sarà impossibile. Quindi magari... A platino. Adesso sono argento 2, ragazzi. Era argento 1. Sono diventato il nuovo argento 2. Perché... Prima ho perso una partita. Anzi, sono 2 le ho perse. Ricarichiamo. E adesso andiamo. Ok. Immaginando una squadra tutta Elite. Oh, troppo bello. Sarebbe perfetta una squadra tutta Elite. Che ho qui uno baricato. Qui si può sfondare. Che è venuto solo da dove sfondare. Mettiamo il drone qua. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Oh, tu. Ah, io ci sono anche questo qui. Dove stanno? Ah, ma non stanno qua. Dove stanno andando? Ah. Stanno da quest'altra parte. No, stavo per uccidere l'ostaggio. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Ho visto Capugan. Eccolo. 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 Ok, ucciso. Bene, bene, bene. Ci siamo. Ci siamo. Ma ragazzi, stavo per uccidere l'ostaggio. Madonna. Cioè, se uccidevo l'ostaggio era finita. Era finita. Cioè, mi bannavano dalla vita questi. E blocca stodone che dà un po' troppo fastidio. Ci so com'è l'azione finale di Blackbird Elite. Ok. Vabbè, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate tanti smilano anche se vi è piaciuto. E noi ci rivediamo alla prossima. Bella ragazza. Ciao.